Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per la televisione italiana, la terribile notizia è arrivata pochi minuti fa. Purtroppo è morta nelle scorse ore. Stiamo parlando di Alessandra Valeri Manera, che è morta ieri all'età di 67 anni. Il suo nome è noto nell'ambiente, meno per il pubblico da casa. La donna era la principale compositrice delle canzoni dei cartoni Mediaset, trasmessi da molti anni sulle reti del Biscione. Alessandra è anche autrice di numerose canzoni cantate da Cristina D'Avena e dirigeva da tanti anni programmi per bambini di Mediaset, è stata un'icona per generazioni. Alessandra Valeri Manera gestiva da oltre 20 anni i programmi per bambini di Mediaset. Nel corso della sua carriera ha firmato numerose sigle di successo ed è stata responsabile di spettacoli cult come Bim Boom Bam. Come riporta fanpage.it, la scomparsa di Alessandra Valeri Manera unisce tutti quelli che bambini non lo sono più da un pezzo. Grazie.